Musica Bentornato Goodyear, bentornata Ora iniziamo a descrivere un programma integrato al sistema operativo Dopo aver smanettato il desktop, la barra, le sue impostazioni Vediamo un programma che è molto importante Questo programma ha il nome di gestione attività Cosa significa? Come recita il nome, questo è un programma che lavora nascosto In inglese background E gestisce i programmi che sono attivi nel computer Nel sistema operativo In pratica evidenzia tutta la serie di applicazioni, di processi I vari servizi del sistema operativo Che stanno lavorando, quindi sono appunto attivi Ed in tempo reale In alcune versioni di Windows Trovi il nome alternativo di Task Manager È utile sia Task Manager che gestione attività Dicevo è utile per tenere sotto controllo Le prestazioni del computer Ed in caso di necessità intervenire In modo da chiudere il programma che magari è andato in crash Non risponde, va in blocco Se il PC è anche connesso ad una rete di computer Potrai utilizzare questo programma per visionare lo stato della stessa della rete Ed infine se al computer accedono diversi utenti Puoi controllare l'attività di ogni singolo utente Ed anche inviare loro un messaggio In definitiva il programma gestione attività ti permetterà di prendere visione E non solo Dei programmi avviati o da te O dal sistema operativo O da terze parti Analizziamo quanto appena esposto Ovviamente è abbastanza chiaro ciò che riguarda i programmi che tu avvi Ti serve un programma per lavorare, per giocare, per eseguire qualsiasi funzione col computer Dai un click e lo attivi Tale programma sarà inserito in una lista di programmi attivi Presente all'interno proprio del programma gestione attività Il sistema operativo tra l'altro per funzionare Avvierà esso stesso dei programmi applicativi I quali compariranno nella stessa lista Veniamo all'applicazione avviata da terze parti Quindi da altre aziende, altri fornitori Qui rimaniamo nell'ambito del lecito Ma si può entrare anche nel potenziale illecito Perché? Nella prima categoria, quindi programmi illeciti Sono programmi che hai installato con piena volontà E che si attivano automaticamente ad ogni avvio di Windows Come ad esempio l'antivirus Ed altri programmi di sicurezza o di diagnostica Quindi troverai una serie di icone Che sono visibili nella Sistray Come abbiamo visto qualche lezione fa Oppure programmi che pur lavorando in background Sono attivi per ricercare ad ogni loro avvio Eventuali aggiornamenti per il programma stesso Affinché ti notificano la presenza di nuove versioni Fornite dal produttore Ora veniamo all'autoscuro Che significa la realtà rappresenta Che i cattivi si nascondono O quantomeno lavorano in maniera subdola Ma comunque nascosta Non trasparente insomma Beh, anche i programmi malevoli Ricalcano questa filosofia Alcuni in maniera dannatamente subdola Altri un pochino meno I meno cattivi si attivano E tu, nella peggiore delle ipotesi Non hai indicazioni della loro presenza In maniera trasparente Oppure hai la sensazione Che qualcosa non funziona a mestiere Ma, comunque, fortunatamente Attivando il programma di gestione dell'attività Questo programma malevolo Sarà elencato nella lista di processi attivi Quindi lo potrà individuare I guru malefici, invece Creano dei programmi Così ben ingegnati Che inibiscono alcune funzionalità del computer Infatti, se il computer viene contaminato Da uno di questi malware così ostici Potresti aver bloccato proprio il programma gestione attività Nel senso che non riuscirai ad attivare tale programma Tutto questo, proprio al fine Di impedirti di visionare e disattivare Il programma malevolo Di norma, però, disattivano anche Tutti i programmi di sicurezza Ed altre funzioni del tuo computer Il lato sicurezza Lo vedremo in seguito Durante il percorso della guida al computer Ora, rimaniamo a gestione attività Al programma di gestione dell'attività Prima di tutto, come si avvia? Ci sono vari modi Innanzitutto, puoi posizionare Il mouse sulla barra dell'applicazione In una zona vuota E clicca con il pulsante destro Dal menu che si genera Individua la sezione gestione attività E clicca ci sopra L'alternativa più rapida, se vuoi, da tassiera Può avvenire Premendo contemporaneamente i tasti Control, maiuscolo, escape Per intenderci, il tasto maiuscolo È anche denominato con shift È quello che ha la freccia diretta verso l'alto Che è posto proprio sopra il tasto Control Ce ne sono due di tasti Control Uno sul lato sinistro E uno sul lato destro della tassiera Ma comunque, entrambi eseguono la stessa funzionalità Da questa immagine, come puoi vedere Dal menu che si crea cliccando Con il pulsante destro del mouse C'è la sezione attiva gestione attività Cliccandoci sopra Avvierai questo programma Il programma presenterà diverse sezioni Che saranno evidenziate da delle linguette Ognuna con un ben definito nome Che rappresenterà le applicazioni I processi, i servizi attivi Le prestazioni del sistema operativo La rete e gli utenti In pratica, qui, come puoi vedere dalla schermata È avviato il programma gestione di attività E presenta le sezioni appena evidenziate Che in questa e nella prossima lezione tratteremo Partiamo dalla prima, applicazioni In essa trovi listati i programmi Che tu personalmente hai avviato Qui ne vedi elencati alcuni Ogni programma o processo Evidenzierà nelle colonne più o meno numerose Che si srotoleranno accanto al nome Alcuni parametri Molti di essi saranno incomprensibili a noi Ma non certo per gli smanettoni più estremi Per i programmatori, per gli hacker I cracker e così via I cracker sono non quelli che si mangiano Ma sono definiti gli hacker malevoli Ossia coloro che scrutano ed individuano I bug di programmi e sistemi operativi Per creare operazioni malevole Per i loro meri scopi di guadagno sostanzialmente Oltre che danneggiare ovviamente L'utente che ne subisce le azioni Altri parametri invece ci torneranno utili In qualche caso Ma ora comunque prendi soltanto visione Di ciò che offre il programma Gestione di attività E le sue potenzialità Che poi sicuramente andrai ad utilizzare Per ottimizzare anche l'uso del computer O rilevare eventuali problemi In seguito, dopo aver avuto Una informazione di massima Di ciò che esegue il programma Potrai testare Iniziare a smanettare Quindi interagire con il programma stesso Ed anche in estrema ipotesi Creare dei problemi E quindi agire per la riparazione Beh, non credere che non accadrà Accidenti se accadrà È accaduto un pochino a tutti Ma comunque non ti preoccupare Perché imparerai ad agire Con estrema sicurezza Con determinati strumenti adatti Che in seguito acquisirai Quindi la lista dei programmi evidenziata Sostanzialmente ti tornerà utile Proprio per vedere quali sono i processi attivi I programmi attivi Avrai anche la possibilità di interagire con il processo Con una serie di operazioni Che puoi evidenziare e testare A tuo piacere Questo cliccando con il pulsante destro del mouse Sul programma, sul processo attivo Generando così un menu Che ti evidenzia alcune opzioni Alcune funzioni Che puoi eseguire In realtà la creazione del menu Avviene in ogni sezione Del programma gestione di attività In quanto ogni sezione Fornisce una lista di nomi Più o meno lunga E su ogni voce Avrai la possibilità Di generare un menu Che ti permetterà di interagire Con la stessa voce Quindi con il programma Con il processo Tra le varie opzioni Che si presentano nel menu Prendi principalmente Visione di quella Definita con termine attività Che in pratica Ti permetterà di chiudere Tramite una forzatura Il programma in esecuzione Forzatura che a volte è necessaria In quanto il programma Magari non risponde più In modo classico E quindi non potrai chiuderlo Con la X Oppure con il pulsante specifico Di chiusura E allora dovrai attuare Un atto di forza Proprio tramite il comando Termine attività Che a prescindere dal menu È comunque sempre in vista Nella zona in basso a sinistra Altra opzione Che viene generata dal menu È Crea file di dettagli Che permette di creare Un file Con la sequenza Delle operazioni Delle attività Che svolge il programma Questo potrà tornare utile a te O comunque agli smanettoni Più ferrati Per individuare Magari cercare di individuare Quale può essere il motivo Di un blocco Di un crash Del programma Il pulsante vai al processo Ti trasferisce direttamente Al processo Che è in realtà Una sezione Del programma Gestione di attività Che tratteremo Dalla prossima lezione Gli altri comandi Che evidenza il menu Sono poco operativi Quindi possiamo Tralasciare senz'altro Ok goodlier Eccoci di nuovo Nel nostro desktop Vediamo come attivare Il programma Gestione attività Abbiamo detto Ci sono un paio di modi Andiamo in una zona Vuota Della barra Delle applicazioni Clicchiamo Con il pulsante Destro del mouse E si genera Un menu Cliccando su Avvia Gestione Attività Si avvierà Appunto il programma Vediamo un altro metodo Abbiamo detto Che è possibile Attivarlo Premendo Contemporaneamente I tasti Control Maiuscolo Ed escape Tramite la tastiera Schermo Te ne do Una dimostrazione Quindi tu lo farai Contemporaneamente Cliccando Sui tasti Control Maiuscolo Ed escape E si avvierà Il programma Parcheggiamo la tastiera E andiamo a visionare Ciò che ci presenta Il programma Come puoi vedere Attualmente Sono attivi Alcuni programmi La tastiera A schermo Il programma Che sto utilizzando Per registrare Questa lezione Il programma Di presentazioni Powerpoint E il programma Che utilizzerò In seguito Per elaborare Questa lezione Se volessi Aggiungere Qualche altro programma Ad esempio Un programma Di grafica Vedrai che Comparirà Nella lista Che si presenta Sotto le attività Eccolo qua Aggiungendone Magari un altro Spostiamolo Per una migliore visione Aggiungendo Ad esempio Esplora risorse Vedrai che Comparirà Dopo Qualche istante Nella lista In questo caso E' raccolta Chiudiamo Il programma Relativo E vediamo Che va a scomparire Dalla lista Quindi Qui sono sempre Rappresentati In tempo reale I programmi Massimizziamo Il tutto Per una Miglior lettura Da farti notare Subito La possibilità Di ordinare In ordine Alfabetico Scusa La ripetizione Oppure al contrario Cliccando Sulla colonna Stesso discorso Lo potrai fare Nelle altre sezioni Qui sono presenti Soltanto due colonne Comunque Le sezioni Che sono Attive Nel programma Di gestione Attività Sono applicazioni Processi Servizi Prestazioni Rete Ed utenti Che andremo a vedere Nella prossima lezione Qui in alto Hai una serie Di operazioni Che puoi Eseguire Ad esempio Esci da Gestione Attività Può essere L'alternativa Della chiusura Di questo programma Alla X Che ormai Già ben conosci Chiudiamo Gestione Attività E riapriamolo Tramite la sequenza Di tasti Che ti ho Prima definito Massimizziamo Di nuovo La finestra Dalla barra Dei menu Potrai Scegliere Altre opzioni Che ti permetteranno Di visualizzare In maniera Diversa Il programma Riducendolo Ingrandendolo O affiancandolo Orizzontalmente E verticalmente Rispetto ad altre Finestre Oppure Eseguire L'aggiornamento Nel caso in cui Tu devi Monitorare Costantemente Un programma O cliccando Su questo pulsante O premendo Il tasto F5 Puoi anche impostare La velocità Automatica Di aggiornamento Lascerei Su normale Ma torniamo Comunque Alla lista Di questi programmi Su ogni processo Su ogni applicazione Puoi attivare Un menu Il menu Lo puoi attivare Con il pulsante Desto del mouse Si generano Vari opzioni Che ti permetteranno Di interagire Con le applicazioni Se clicchi su Termini attività Immediatamente Il programma In questo caso Della tastierina A schermo Verrà chiuso Per farti Visionare L'azione Mettiamo In vista La tastiera Chiudiamo O con il Tasto destro Del mouse Il programma Oppure Tramite questo pulsante L'effetto sarà Identico E vediamo L'effetto Della pressione Come puoi vedere Il programma Scompare Pressoché Istantaneamente Dalla gestione Delle attività Possiamo eseguire La stessa cosa Con il programma Powerpoint In questo caso Cliccando su Termini attività Massimizziamo Di nuovo E Vediamo Le altre opzioni Queste sono Opzioni Poco Operative Perché ti permetteranno Di andare Direttamente Al processo Quindi al programma Nella sezione Che vedremo Dalla prossima Lezione Quindi Questa sezione Processi Quest'opzione Crea file di dettagli Come dicevo Ti permette Di creare Un file Che potrà essere Studiato Per rilevare Eventuali Bug Eventuali Malfunzionamenti Del programma Stesso Ma diciamo Che tutto sommato Il principale E proprio Termina Attività Che ripeto Ti permette Di forzare Il programma Qualora Se ne presentasse L'occasione Nella prossima Lezione Terminerò La trattazione Del programma Di gestione Attività Ora Un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E alla prossima Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto